Ciao ragazzi, buono di questo, sono i Geoforica oggi siamo in nuovissimo vlog che dura pochissimo perchè devo dire solo tre cose che in questi giorni forse con Zeus e TonyGamer008 scrivetevi allo sotto al loro canale e anche al mio che il loro novelo non lo lascerò in descrizione comunque in questi giorni forse uscirà la Dialetto Challenge Dialetto Challenge che mi consiste di dire dei dialetti che poi vedrete sono le 7 del mattino perciò questo video dura pochissimo per dire solo due cose perchè non sto portando tipo di video perchè non so cosa portare e poi ditemi ora a fare un nuovo canale credo così porterò anche video su PS4 di tipo Call of Duty Black Ops 3, Minecraft e GTA 5 Online in gare tipo dei glitch credo le nuove macchine che sono uscite tante sono uscite tutte le nuove macchine bellissime per dire solo questo e credo che su PS4 credo che porterò video solo se li porterò con Francesco Pio de Rosa che saluto che è un amico come sono bello come sono bello non è bello comunque volevo dire solo questo un paio di cose sono lei sempre le 7 del mattino precise se volete chiamare al barb perciò questo video si conclude qui iscrivetevi al mio canale compilitate ditemi se volete tipo di video tipo di video come vi devo dire tipo di video parodie ditemi una parodie da fare tipo non so ho fatto la parodia di non te lo negare in italiano la parodia non te lo nega ho fatto un altro tempo fa è andato benissimo vi ringrazio ancora cosa dire iscrivetevi al mio canale lasciate like commentate per dirmi una parodia che devo fare bella raga